Benvenuti all'appuntamento con la salute dedicata all'invecchiamento e alla prevenzione. Siamo in compagnia del dottor Ivo Bianchi, specialista in medicina interna, esperto in medicina naturale, autore di numerose pubblicazioni, docente, avremo modo proprio di approfondire anche queste sue attività nel corso della puntata, che è dedicata all'infiammazione. Quindi cercheremo di capire che cos'è, come nasce e soprattutto come possiamo contrastarla, rallentarla e perché no, anche fermarla, giusto dottore? E quindi è già da molti anni che si dice che l'infiammazione, soprattutto l'infiammazione cronica, l'infiammazione silente, quella di cui noi non ci accorgiamo molto spesso, è il killer silenzioso. Questo è stato definito così su una copertina di time di tantissimi anni fa. E l'infiammazione possiamo dire, senz'altro con le ultime ricerche, che è la base di quasi tutte le malattie del nostro tempo. Parliamo del diabete, del cancro, anche delle malattie infettive e così via. Quindi l'infiammazione cronica predisponeremo a tutte le malattie del nostro tempo. Quindi è importantissimo, da una parte, capire perché viene l'infiammazione, in modo che si possa fare una prevenzione già in età giovanile sull'infiammazione cronica, che poi si riverbera dopo 20-30 anni, e sia ci può fare anche qualcosa per curare, ovviamente. La medicina naturale ci permette senz'altro di curare quasi tutto, di curare naturalmente anche l'infiammazione. Perché spesso è silenziosa, possiamo dire addirittura subdola, perché è difficile accorgersi della sua insorgenza. Certo, molto spesso i pazienti hanno appunto il diabete, l'ingrasciamento, i dolori articolari, le infezioni ricorrenti, questi virus che non guariscono. E in realtà è dovuto a uno stato infiammatorio cronico subdolo. Questo fatto infiammatorio inizia presto nella vita, iniziano quando una persona si ammala frequentemente, quando una persona incontra frequentemente dei patogeni, normalmente questi lasciano dei residui. Tanto che possiamo dire che se noi guardiamo i centenari, per esempio, una delle caratteristiche dei centenari è quella di essersi ammalati pochissimo nella vita. Quindi è di avere anche frequentato pochissimi medici, perché non c'è solo la malattia acuta, ma c'è anche la malattia rappresentata dal farmaco, che comunque è una sostanza tossica, molto spesso crea dei problemi, o la malattia rappresentata da stimoli farmacologici non opportuni. Quindi un modo per vivere a lungo è quello di non ammalarsi. Ammalarsi poco vuol dire vivere molto a lungo. E per ammalarsi poco bisogna fare della prevenzione e prevenire questo problema infiammatorio, questo sostanzialmente prevenire. Naturalmente invecchiando ci si infiamma, succedono varie cose, invecchiando ci si infiamma, si accumulano esperienze patologiche, si accumulano degli anticorpi per tutte le varie patologie che noi abbiamo fatto. In più c'è anche una tendenza ad atrofizzarsi di una ghiandola fondamentale che è il nostro timo, e quindi questo porta poi alle patologie, alle conseguenze di infiammazione cronica. Quindi intanto possiamo dire due concetti, secondo me. Uno, prevenire le infiammazioni, prevenire le malattie, quindi usare il concetto di prevenzione, sia a livello alimentare che a livello di integrazione. Secondo, anche sostenere questa ghiandola fondamentale del nostro corpo che è il timo. E noi possiamo già sostenerla, per esempio, con degli aminoacidi. La taurina, per esempio, può sostenere il benessere del timo. Lo zinco è importantissimo per sostenere il benessere del timo. Il selenio, anche lui è così. Quindi voglio dire, noi possiamo già con queste semplicissime cose, taurina, zinco e selenio, già sostenere il benessere di questa ghiandola che è quella che regola l'infiammazione, che fa sì che l'infiammazione magari acuta, venga superata e non diventi infiammazione subdola e cronica. Una ghiandola molto importante che si trova anche in un punto strategico. Si, si trova proprio dietro il nostro sterno, quindi è importantissimo, tende ad atrofizzarsi perché è molto importante da giovane, perché nei bambini immagazzina le informazioni attraverso le quali poi si sarà in grado di sostenere le malattie che tornano. Timo, c'è proprio la memoria immunitaria in queste cellule, in questi linfociti T, questi linfociti timici, c'è la memoria immunitaria e poi un buon Timo, Demo, permette che quando poi ti torna un problema che tu hai già incontrato, può essere un'influenza e così via, il Timo riattiva subito le cellule competenti per questo. C'è da dire che negli anziani il Timo, tante volte si trasferisce, anche alcune delle sue conoscenze, alla milza e queste due strutture, il Timo, soprattutto nei giovani, che dà le informazioni iniziali. La milza, dopo una società, diventano importantissime per la prevenzione delle malattie, che vuol dire anche prevenzione dell'infiammazione, che poi ribadisco è la causa di quasi tutte le patologie che noi incontriamo. Perché sono importanti questi tre elementi che ha citato prima? In che modo vanno ad agire sul Timo? Dobbiamo in agire perché lo zinco, soprattutto, è un elemento minerale che agisce su almeno 200 passaggi biochimici nel nostro corpo e quindi è fondamentale, è veramente fondamentale per sostenere la salute biochimica nel nostro corpo. La taurina è un aminoacido sulforato, che è lo zolfo, che è una specie di trofico, trofico per il cervello, trofico per tutti i tessuti e anche per il Timo. E poi il selenio è un minerale importantissimo perché è il minerale che antagonizza le autoimmunità, antagonizza gli errori immunitari e l'infiammazione molto spesso è esagerata come errore del corpo. Il selenio antagonizza che il corpo faccia questo errore di infiammarsi in eccesso oltre le sue necessità. A volte magari diventa importante anche quello che introduciamo a livello alimentare, che può essere però anche un motivo, a volte una causa dell'infiammazione? Certamente quello che noi introduciamo con l'alimentazione è importantissimo perché più noi introduciamo dei cibi industriali, c'è proprio il concetto del cibo intero, del cibo vero, più introduciamo dei cibi composti, dei cibi manufatti, più il nostro organismo ne risente. Introduciamo sostanze edulcoranti, insaporenti e così via, che vanno assolutamente a disturbare il nostro organismo, a disturbare il nostro timo, creano un problema infiammatorio nel corpo che si rivela poi nel tempo in maniera molto importante. Quindi diventa da una parte un qualcosa da controllare proprio per evitare che peggiori la situazione e dall'altra però anche un alleato può diventare il cibo perché ci può aiutare con le giuste scelte? Certo, noi abbiamo dei cibi, come dico soprattutto quei cibi che sono i cibi della nostra area geografica, soprattutto i cibi cui noi siamo abituati, anche perché c'è oggi questa grande tendenza alla celiachia, perché non è più il frumento di un tempo, non è più il senatore cappelli, il farro e così via, sono frumenti elaborati, trattati con anticriptogamici eccetera eccetera e quindi questo arriva al nostro organismo e crea una stimolazione antigenica. Questa stimolazione antigenica poi si trasforma in infiammazione, quindi noi dobbiamo sempre più cercare i cibi naturali, i cibi da cui siamo abituati e soprattutto il cibo intero, il cibo puro, il cibo che non deve essere il cibo confezionato nel supermercato, può essere il pezzo di salmone, il frutto, la pasta, ma non deve essere il cibo industriale, questo è il concetto, deve esserci sempre meno l'impatto dell'industria che tende a insaporire, a migliorare il cibo, questo miglioramento per noi, direi a livello poi del nostro organismo, è un peggioramento. Perché poi l'organismo comincia a mandare dei segnali. Certamente, dei segnali che tanto più noi siamo anziani tra l'altro, tanto più sono segnali di consulti, sono segnali di infiammazione cronica, ma anche nel giovane manda segnali, perché nell'anziano gli determina un'infiammazione che può portare al cancro, al diabete, ma nel giovane può portare alle malattie autoimmuni, che sono oggi frequentissime, la tiroidite autoimmune, le artriti e così via, sono frequentissime anche nei giovani, perché appunto ci sono queste stimolazioni anomale che non sono sostanze che noi conosciamo, il nostro rapporto non le conosce. Ci sono dei parametri quindi per capire qual è il livello dell'infiammazione? Ci sono due parametri molto semplici, molto banali. Ci sono parametri per vedere se c'è un'infiammazione acuta, per esempio, ma il più delle volte questo non c'è. I parametri più importanti, secondo la mia esperienza, sono due, molto semplici, molto economici anche da fare. Uno si chiama la proteina C-reattiva, che è una proteina che indica la reattività del nostro corpo contro appunto un problema di tipo infiammatore. Quindi è questo PCR, importantissimo parametro, che deve essere più possibile vicino allo zero. Quando siamo già a 0,5-1, però se superiamo i 5 è già un segno infiammatorio importante. E poi l'altro parametro è la ferritina. La ferritina è una proteina prodotta dal fegato, che normalmente serve per trasportare il ferro nel nostro organismo, ma quando c'è un'infiammazione che colpisce molto spesso il fegato, ma quasi sempre il fegato è coinvolto, si alza questa molecola, questa ferritina, a indicare proprio che c'è un'infiammazione cronica. Il fegato produce di più ferritina, proprio una reazione del fegato di produrre inutilmente, devo dire, reagisce producendo più ferritina. Questi due parametri appunto sono quelli che noi dobbiamo cercare per vedere se noi siamo infiammati. Poi se c'è un'infiammazione ancora più importante aumenta anche la VES, aumentano i globuli bianchi e il rapporto tra i globuli bianchi, aumenteranno i linfociti se c'è un'infiammazione postuma di una virosi, aumenteranno gli osinofili se c'è un'infiammazione legata a un'allergia, aumenteranno i neutrofili se c'è un'infiammazione legata a dei batteri. Però questo si vede anche raramente, uno si accorge di questo, mentre invece uno non si accorge di un'infiammazione subdolacronica nella quale aumenta appunto la ferritina e la PCR, che invito tutti a fare frequentemente per monitorare il loro stato infiammatorio. Quasi dei controlli periodici sarebbe importante fare? Sì, dei controlli periodici che sono importanti, perché ribadisco che questa infiammazione si chiama, non a caso, il killer silenzioso e quindi dobbiamo noi individuarla certamente. La natura, come spesso accade, diventa anche in questo caso nostra alleata, non soltanto come alimentazione, ma anche come prodotti in generale che possono aiutarci, che hanno delle proprietà particolari che possono tornare utili. Certo, noi abbiamo questa infiammazione che abbiamo detto legata alla PCR e la ferritina, si riverbera a livello dell'organismo dando dei messaggi che si trasmettono attraverso queste piccole molecole che sono le citochine e l'infiammazione evoca tre citochine sostanzialmente. Ci sono l'interleuchina 1-beta, il tumor necrosifattor alfa e l'interleuchina 6. Ebbene, nell'alimentazione o nell'integrazione, proprio anche molto banale, troviamo degli elementi per contrastare queste specifiche sostanze e quindi è molto importante. Per esempio, consumare aglio, che è molto banale, uno può prendere uno spicchio d'aglio alla sera, prima di andare a letto, lo taglia, perché tagliandolo facciamo uscire le sostanze terapeutiche dell'aglio, in particolare l'aldicina, lo mette in una tazza d'acqua e al mattino beve quest'acqua in cui è stato lasciato lo spicchio d'aglio alla sera. Ebbene, l'aglio abbassa moltissimo l'interleuchina 1, è una sorta di antinfiammatorio e di immunosoppressore quando c'è una reazione immunitaria eccessiva, quindi è una cosa molto banale, banalissima. Abbiamo poi altre due sostanze, una più complessa, una è la graviola, che è un frutto sudamericano, per non stare lì a andare, e l'altra invece è il cordiceps, questo fungo medicinale è molto importante, che è un tonico meraviglioso, però ha anche un antinfiammatorio, è anche un fungo che tra le tantissime vite che ha abbassa anche questa interleuchina 1, che è un messaggio infiammatorio per il nostro organismo. Il dottore è un vero esperto di questa tematica, parliamo in questo caso del mondo dei funghi, quindi possiamo approfondire il tema legato a questo tipo, in particolare andando a scoprire quelle che sono le proprietà e anche gli utilizzi? Bene, questo fungo, questo cordiceps, è un fungo che ne parleremo poi successivamente anche in altre puntate per la stanchezza, nasce come grande tonico, però è un tonico che agisce levando l'infiammazione, perché l'infiammazione è il problema per cui uno è stanco, una base infiammatoria determina la stanchezza e questo fungo lavora su questa base infiammatoria e stimola la reattività e la forza dell'organismo. Quando diamo questo fungo gli atleti rendono meglio, riesce a camminare molto meglio e perché? Perché ti toglie questa base infiammatoria che è l'ostacolo alle tue facoltà. Dov'è che lo possiamo trovare? Quello purtroppo lo troviamo nel Tibet, possiamo raccoglierlo, se andiamo nel Tibet in primavera lo troviamo, questo piccolo funghetto, possiamo raccoglierlo scorrazzando per le pianure di questo altopiano, ma adesso si può coltivare, quindi lo troviamo facilmente anche come integratore. E poi si può naturalmente cercare di capire in base al problema che uno ha riscontrato, quanto assumerne, in che modo, quando anche… Certo, certo, normalmente 300-500 mg sono più che sufficienti. Però vorrei sottolineare un altro, abbiamo detto l'interukina 1, c'è poi il tumor necrosis fatto l'alpha. Questo è ancora più importante perché indica che il corpo si sta attivando contro un'infiammazione che sta generando pian pianino un tumore. Il corpo si attiva con questo tumor necrosis fatto l'alpha, per uccidere questo tumore, vuol dire che però c'è un tumore in giro. E allora abbiamo delle altre sostanze molto semplici, una di queste per esempio è lo zenzero. Quindi noi dovremmo usare sempre, io per esempio nella colazione del mattino, nutrito sempre un po' di zenzero e lo zenzero è un grande antinfiammatorio che agisce su questo aspetto. Quindi è un antinfiammatorio che non tanto sul dolore, sulla febbre, ma anche nella prevenzione delle patologie tumorali conseguenti all'infiammazione. Quindi capite l'importanza fondamentale. Quindi abbiamo detto l'aglio, sì, infiammazione che crea problemi, disturbi vari. Quindi aglio certamente sì, ma anche zenzero è un grande aiuto per la nostra salute. Hanno entrambi due sapori particolari perché non tutti ad esempio riescono a tollerare l'aglio, a digerirlo, anche soltanto l'odore magari può dare fastidio e lo stesso anche lo zenzero ha un sapore molto forte. Certamente con l'aglio non tutti lo tollerano, c'è anche in ogni caso l'aglio a cui è stato elevato il sapore. Queste sono delle capsule, ci sono anche quelle. E c'è anche l'intoleranza all'aglio ovviamente. Però dovremmo cercare di, se c'è un'infiammazione, soprattutto se c'è un'infiammazione collegata anche a un problema di ipertensione, di obesità, l'aglio è molto utile. Però ci sono varie preparazioni di aglio. C'è l'aglio normale, c'è l'aglio nero, che è ancora più potente, ci sono le capsule di aglio oleose che sono prive del sapore dell'aglio, quindi sono molto ben tollerabili. Non è uguale però assumere magari dei prodotti, non so, magari lievemente, leggermente lavorati, tipo l'aglio quello piccolo, magari confezionato, sotto olio piuttosto che… Sì, beh, certamente le proprietà ci sono sempre, però l'uso, diremmo proprio alimentare dell'aglio da una parte, dello zenzero dall'altro è molto molto importante, come cosa anche molto semplice da dire. Si prende la radice di zenzero, si pulisce un pochino, dopodiché io parlo spesso, anche ho fatto un video su Instagram parlando della mia colazione, nella colazione che secondo me lo deve essere fatta frullando dello yogurt greco, del kefir, delle noci e così via, assieme a queste cose si frulla anche un bel pezzettino di zenzero da un buon tono, lo zenzero è un antinausea, un antigastritico, assolutamente un antinfiammatorio importantissimo. La giornata si inizia con una colazione sana e uno degli elementi più importanti per la colazione sana è proprio lo zenzero, che è molto molto importante. Questo è un ottimo consiglio che magari proveremo anche a mettere in pratica, quindi abbiamo detto zenzero, noci, yogurt greco e kefir, che è anche questo un fungo sostanzialmente, molto importante per attivare il nostro sistema immunitario. Perché poi il dottore essendo esperto di questi argomenti, anche attraverso corsi riesce a… Io faccio sempre una serie di corsi in cui parlo di alimentazione, di salute in generale, di come curare la propria salute e quella di coloro che ci sono vicini, perché noi dobbiamo trasmettere ai nostri figli la cultura dell'alimentazione sana. Dobbiamo anche aiutare le persone vicine ad alimentarsi in maniera sana, perché chiaramente l'alimentazione è la base della salute ovviamente. Quindi nei miei corsi insegno a vari livelli, in modo che siano fruibili sia per i persone comuni che per il farmacista, per il medico, per il naturopata e così via. Quindi comunque guardando su internet trovate questa masterclass che è questo corso che ho fatto da quattro anni, molto importante in questo senso. Anche i libri che non a caso sono vicino a noi, ma proprio perché contengono tutti gli studi che il dottore fa. Certamente, questi due volumi per esempio sugli argomenti di vita naturale contengono veramente molte cose che parlano di infiammazione, di patologie, di virus, di longevità, eccetera, eccetera. Di memoria, perché anche la memoria, anche la degenerazione mnemonica, l'invecchiamento cerebrale è legata anch'esso all'infiammazione. E vorrei aggiungere un terzo elemento, il terzo elemento, il terzo messaggero negativo, è l'interleukina 6. Tutti attivati, perché noi non c'è bisogno che poi dosiamo l'interleukina 6, ma se c'è la PCR aumentata, la ferrite aumentata, poi c'è invece anche l'interleukina 6 aumentata. E questo è importantissimo, l'interleukina 6 è quella che danneggia il nostro sistema cardiocircolatorio, è quello che aumenta la pressione, danneggia il cuore, così via. L'infiammazione cronica può avere riflessi, diremmo, stimolare l'insulgenza di un tumore, ma stimola anche l'insulgenza di un'ipertensione, di una cardiopatia, eccetera, eccetera. E allora in questo caso, diremmo, oltre all'aglio e allo zenzero che agiscono anche su questa interleukina 6, è molto utile usare per esempio l'astragalo, che è una pianta dell'Asia minore, che troviamo correntemente come integratore, che è un grandissimo prodotto per supportare il sistema immunitario. Come dicevo all'inizio, noi dobbiamo ammalarci il meno possibile, per questo che io prendo sempre, tutte le mattine, una capsula di astragalo, mattina e sera sempre, e la do anche ai miei nipotini e ai bambini che curo. Perché noi dobbiamo, la cosa migliore è non ammalarci, meno ti ammali e meno accumuli stimoli infiammatori cronici nel tuo organismo. Quindi importantissima prevenzione. Quindi l'astragalo, che agisce in maniera specifica sull'interleukina 6, deve essere un altro nostro alleato, assieme all'aglio, assieme allo zenzero, questa è una pianta importantissima. Prevenzione delle patologie, prevenzione dell'influenza, prevenzione... e quindi se uno si ammala poco, come ho detto altra volta, come ho detto prima, uno si ammala poco, si infiamma poco e vive più a lungo. Perché noi moriamo infiammandoci, moriamo perché ci siamo ammalati tante volte, abbiamo accumulato radicali liberi, abbiamo accumulato stimoli antigenici e entriamo in questa infiammazione cronica che è malattia cronica e poi moriamo. Invece se non ci ammaliamo e non ci infiammiamo, viviamo fino a 100 anni, 120, felici e contenti. Quindi però dobbiamo anche impegnarci un po'. Certamente la salute passa attraverso l'impegno ma anche la conoscenza. Ecco perché dobbiamo studiare, perché è la conoscenza che ti salva. Non puoi correre dietro al gusto del cibo dolce e del cibo insaporito. Tu studi, ti informi, pensi, conosci e hai il ricompensa di questo impegno e la salute. Perché dietro naturalmente a tutti questi consigli ci sono anni e anni di lavori, di studi che poi alcuni sono culminati appunto in raccolte. E poi tantissimi che sono poi confermati da tantissimi studi scientifici. Io riassumo poi in realtà ciò che c'è nella letteratura scientifica, oltre al fatto che sono 53 anni che faccio il medico, quindi diciamo un po' di esperienza ce l'ho. Insomma ecco. Però abbiamo capito e continuiamo a capire sempre di più quanto la natura possa essere nostra amica. Assolutamente. Noi possiamo proprio nella prevenzione che ci viene dalle sostanze naturali avere veramente la salute. E poi chiaramente se uno cade nella malattia deve prendere i farmaci. La medicina è una sola, diremmo. E qui è importante il cortisone, l'antibiotico, il chemioterapico, tutto è importante. Però diremmo il nostro impegno dovrebbe essere quello, il nostro impegno personale, poi chiaramente sarà il medico, lo specialista per scriverci il cortisone, il chemioterapico, eccetera. Il nostro impegno personale è di prevenire con l'alimentazione e prevenire con le sostanze naturali banali, semplici, facilmente reperibili e poco costose, prevenire l'infiammazione e prevenire le patologie in generale. Grazie dottore, la ringraziamo per averci aiutato a capire meglio come contrastare questo problema purtroppo importante che riguarda tutti noi e la nostra salute. Quindi grazie davvero e grazie come sempre a tutti voi per averci seguito. Arrivederci. Grazie.